ho comprato il pesce eccolo fa una bella frittura e adesso la pulisco vado a cominciare bella proprio bella i miei tuzzetti bella bella sono contenta comincia questa è una triglia tolgo le eventuali squame che ci sono taglio la testa aspettate che vi metto in modo più comodo per farvi vedere taglio la testa e apro il sottoventre e apro il ventre pulisco pulito e me lo metto da parte adesso proviamo a pulire un merluzzo apro il ventre ecco ora ho aperto con le forbici merluzzo tolgo le branche e poi prendendo da parte poi guardate un po come faccio da qui tiro e tolgo tutte quante le interiore pulito adesso ne faccio un altro così vedete meglio prendiamo un altro bel merluzzo ecco quando è bello apro il ventre si vede apro il ventre allargo le due parti delle branche taglio all'inizio delle branche allargo il due angoli delle sottobranche e qui tolgo qui ne faccio un altro apro un altro merluzzo allargo la testa taglio allargo queste due parti e tiro ecco qui tolto tutto e pulito adesso finisco di pulire tutto il pesce e poi lo lavo lo sciacquo con sotto l'acqua corrente ho deciso di pulire le fogliette adesso sono belle queste pesche le sciacquo per bene ho finito di sciacquarle e adesso le infarino e poi le frigo ciao ciao buon appetito ciao